Eccoci qui amici rossoneri, ben ritrovati qui su Milan Edo, il nostro canale YouTube dedicato al Milan. Vi ricordo come sempre all'inizio di ogni video di iscrivervi, di farlo qui, cliccando, pigiando sulla bandierina rossonera, attivando anche la campanella in modo da non perdere nulla, ma proprio nulla, sul mondo del Milan. Più video ogni giorno. Non solo lasciate il like qui sotto, ragazzi, siete grandi cuori rossoneri come me, come i quasi 38.000 iscritti neanche un anno di vita di Milan Ello Live, il nostro canale YouTube, lasciate il like qui sotto. Ovviamente in questo momento parliamo molto anche di calciomercato, visto che gennaio è mese di mercato di riparazione, o meglio per il Milan mercato di integrazione, visto che non c'è nulla da riparare, ma c'è una rosa da integrare con qualche innesto. Per primi contro tutto e contro tutti, qui ormai un mese e mezzo fa abbiamo detto, attenzione perché il Milan vuole fare il difensore, vuole fare il centrocampista, ma vuole fare anche l'attaccante. Ebbene nel frattempo il discorso attaccante è stato riportato anche da altri e ha trovato delle conferme. Soprattutto dopo qualche partenza e anche la possibilità di migliorare il tesoretto a disposizione del club, che ha risparmiato dei soldi nel mercato estivo che poi è finito ottobre e nel frattempo poi ha incassato anche qualche altro soldino, o meglio lo ha risparmiato. Seppur in una situazione difficile dal punto di vista economico per tutti, ovviamente anche per Milan, ma la volontà di Elliot è quella di rinforzare la squadra senza spese folli, che nessuno in questo momento fa, con intelligenza per un futuro sostenibile ma competitivo, per non lasciare nulla del caso e provare a giocarsi fino in fondo questa stagione bellissima del nostro caro amato AC Milan. Ebbene, qualcosa si muove per l'attaccante. Io credo che, come vi dico da tempo, i giorni utili per l'attaccante saranno gli ultimissimi del calciomercato, perché è la meno priorità del Milan. Però nel frattempo si fanno discorsi, si fanno trattative, si fanno incontri, colloqui per imbastire delle possibilità. Quello che oggi è bianco, domani diventa rosso, poi diventa nero, poi diventa rosso-nero nel mercato, che è un continuo divenire. Ci sono delle occasioni che oggi non sappiamo neanche, che non sanno neanche procuratori e giocatori, che magari tra una settimana spuntano e possono essere occasioni che verranno sfruttate. Ebbene, il Milan ha aperti diversi fascicoli per l'eventuale punta. Sottolineo eventuale perché non è detto che arrivi. Però il Milan è vigile, se c'è l'opportunità prende anche la punta. Ebbene, vi abbiamo detto di Scamacca. Su Scamacca il Milan ha fatto più di un discorso, il Sassuolo ha sparato alto, il giocatore al Milan ci verrebbe volentieri, più che volentieri, e ha in Ibrahimovic il suo mito, il suo esempio dal quale potrebbe rubare anche il mestiere, i segreti del mestiere. Ebbene, su Scamacca nel frattempo però è spuntata la Juventus in maniera anche piuttosto prepotente. Juve che è un po' di fronte al bivio potrebbe provare a chiudere per Scamacca o magari anticipare l'arrivo di Milik pagando però dei soldi. Con Milik loro hanno già un accordo per l'estate, pagando dei soldi a Napoli. Se Napoli però vorrà sentire questa proposta potrebbero anticipare Milik e quindi defilarsi su Scamacca. Che piace al Milan? Sicuramente sì, lo abbiamo già detto da diverso tempo. Il suo procuratore ha parlato sia con il Milan che con la Juventus. Juve che ha avuto un discorso con il Sassuolo, che sarebbe disposto a far partire il giocatore per un prestito oneroso, però con obbligo di riscatto tra 18 mesi. La Juventus vorrebbe il diritto di riscatto e non l'obbligo per questo giocatore che ha 22 anni, fatti il primo gennaio, 1,95 per 85 kg. In questa stagione in 13 partite ha fatto due gol e come avete visto è uscito un po' dalla formazione titolare con l'esplosione di destro ma anche per scelta di mercato perché probabilmente a punto cambia la maglia. Prima di arrivare al nome un po' più concreto, un po' più caldo, passiamo sempre da Jovic che non deve essere dimenticato, Jovic a Minampiace, Correbic in coppia a Correbic a Leintracht qualche anno fa ha fatto una stagione straordinaria, a Real per un motivo o per l'altro non è riuscito a imporsi e il Real lo farebbe anche partire ma deve trovare un sostituto se non altro a livello numerico seppur il suo apporto sia stato piuttosto scarso. e in ogni caso la formula è solamente, solo ed esclusivamente per tutti quella del prestito perché lui è stato pagato tanti soldi, una sessantina di milioni, non chiedetemi come, perché e quindi a bilancio ancora per tanti milioni è con l'offerta, nessuno gliela presenta a Real. Pertanto si può spostare con la formula del prestito secco o prestito oneroso con diritto barra obbligo di riscatto però eventualmente anche qui tra 18 mesi. Se si verificano queste condizioni il Milan è vigile, al Milan piace, è un profilo che potrebbe essere lanciato con la maglia del Milan, anche se se si parla di prestito secco e basta il Real vorrebbe farlo partire a un club in grado di farlo giocare un po' di più rispetto al Milan dove rischerebbe di essere fagocitato dalla presenza di Zlatan Ibrahimovic. Ci sono alcuni club della Premier, lo stesso Eintracht che lo rivolrebbe per sfruttarne appunto le qualità ritenendo che lì non abbia problemi anche di contesto, essendoci già stato, avendo fatto lì la sua stagione migliore. 23 anni fatti a dicembre, 1,82 per 85 kg. Ma negli scorsi giorni ci sono stati diversi contatti, l'altro ieri con Branchini, Giovanni Branchini che è il procuratore, tra gli altri, di Leonardo Pavoletti. Il giocatore al Milan ci verrebbe più che volentieri, è tra l'altro un cuore rosso-nero. 26 novembre 1988, quindi ha fatto da poco 32 anni, 1,88, quindi caratteristiche fisiche importanti, bravissimo di testa e può essere, insomma, l'alter ego di Ibrahimovic sicuramente più low profile. Vi spiego come e perché. Intanto lui ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, non lo dovrebbe rinnovare e quindi se si sposta adesso, a giugno poi deve essere venduto, altrimenti va via poi a parametro zero anche se però a quel punto avrà quasi 34 anni. 15 presenze, un gol e due assist quest'anno, in una stagione sicuramente del rilancio per lui, perché l'anno scorso è stato in pratica quasi sempre fermo per dei problemi fisici seri, insomma, si era fatto il crociato, lo ricorderete, molto sfortunato. L'anno scorso lui ha fatto due presenze e zero gol. L'anno prima nel Cagliari, in Serie A, 16 gol in 32 presenze, quindi un gol ogni due partite. L'anno prima ancora, 11 gol in 33 presenze, quindi un gol ogni tre partite. Vediamo però quest'anno quanto ha giocato lui, vi ho detto le presenze, ma quante da titolare? In Serie A solo 5 da titolare, è entrato 10 volte, è stato in panchina due volte e quindi ha un minutaggio piuttosto scarno e poca considerazione. In Serie A lui ha fatto 52 gol e 8 assist in 143 presenze. è una punta centrale, è un numero 9, ha doti fisiche importanti, nel gioco aereo si fa sentire e lui potrebbe essere il giocatore da buttare nella mischia, magari gli ultimi 10-15 minuti, se la partita è bloccata o che magari può far rifiutare, perché no, Ibrahimovic in qualche partita, magari di Europa League, o all'occorrenza sostituirlo con caratteristiche fisiche e anche tecniche diverse rispetto a Leao, che può fare quel ruolo, ma non riempie l'aria, gli piace un po' girovagare. Pavoletti invece in aria ci sta, la riempie, nel gioco aereo è importante, è prestante fisicamente e potrebbe essere il sostituto di Ibrahimovic. In questo caso ci potrebbe essere un piccolo indennizzo al Cagliari o addirittura anche il prestito per poi riparnare nella prossima estate. Il Cagliari potrebbe farlo partire, al Milan il discorso interessa, il giocatore, come ha fatto sapere anche Branchini, al Milan ci vorrebbe più che volentieri e anche, mi dicevano un cuore rosso-nero, lo dice spesso anche Leonardo Martinelli nei suoi video La Voce del Diavolo, che auspica da tempo appunto l'inserimento di uno come Pavoletti. Che cosa ne pensate? Io ritengo che, per non sapere leggere e scrivere, avere un numero 9 è sempre meglio che non averlo. Leao non è un classico numero 9, se non c'è Ibra, magari, e Ibra purtroppo più di qualche partita l'ha saltata, c'è il discorso Leao, ma ci potrebbe essere anche uno come Pavoletti che all'occorrenza può fare il suo, lo fa di mestiere e, ripeto, negli ultimi 10 minuti la partita è bloccata, lo butti dentro, magari una palla alta ti risolve la partita. Sicuramente si è un po' più tutelati se si va a prendere anche un numero 9. Capisco che Pavoletti non fa sognare, anche perché è riduci da un infortunio serio, non brillano probabilmente gli occhi, però può essere funzionale alla causa rossonera, perché no? Io sono abbastanza favorevole, abbastanza, ovviamente, non stravedo, però perché no? Un numero 9, secondo me, va preso. Che cosa ne pensate? Scrivetemelo qui sotto, ragazzi lasciate il like, da grandi cuori rossoneri, spero mettiate il like e, mi raccomando, iscrivetevi qui, se non l'avete ancora fatto, ci vediamo anche più tardi, ci siamo già visti, ci rivedremo, siamo sempre qui, più video ogni giorno. Un abbraccio e forza Milan, ciao!